Sette anni fa mi sono trasferito in Normandia e ho riaperto il panificio di mio padre. Finalmente qui ho trovato la pace e la tranquillità. Siete inglesi? Sì. I am your vicin. Lei è Gemma Boveri e io suo marito Charles. Questa è la Francia, Charlie. La pace e la tranquillità sono finite. The night gets colder, now I'd like it ever was. Indovinate come si chiama la coppia inglese? James Bond, McDonald's. Boveri. Lui si chiama Charles e lei Gemma. Qui in Normandia, dove Flaubert ha scritto Madame Bovary. Io preferisco i tre moschettieri. Io Call of Duty. Io preferirei ti drogassi piuttosto che dire certe cazzate. E come nel romanzo Madame Bovary cede al fascino di Rodolphe, così Gemma viene colpita dal bell'ervé. Sono io? Non è possibile, è mostruoso. Sta zitto. Avrei voluto dirle che era ancora in tempo per fermarsi, per tornare indietro. Si stava gettando in una storia senza futuro. Ti amo, lo capisci questo? Charlie, possiamo parlare. Non può finire così! Ti distruggerà come Rodolphe ha distrutto Emma Bovary. Io sono io. Io sono libera. Io posso essere felice. Ciao, oggi si parla di pirati. Sappiamo già che nel quinto capitolo dei Pirati dei Caraibi, Johnny Depp tornerà a interpretare Capitano Jack Sparrow e che sarà affiancato dal giovane Brenton Thwaites. A breve dovrebbe essere anche scelta la protagonista femminile. E in gara ci sono Lucy Boynton, Gabriella Wilde, Jenna Theam, Kaya Scodelario e Alexandra Dowling. Il quinto episodio della serie sarà girato in Australia, nello stato di Queensland. Le riprese prenderanno il via all'inizio del 2015, mentre l'uscita mondiale nelle sale è prevista per luglio 2017. Grazie per averci seguito. Vi aspetto al prossimo video. Grazie per averci seguito.